L'attività di trading, speculazione e investimento è molto rischiosa. È possibile subire perdite molto rilevanti. Il trading, la speculazione e l'investimento non sono attività adatte a tutti. Chiunque decida di svolgere attività di trading, speculativa e di investimento, lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Gli autori dei contenuti declinano ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati. Danni diretti o indiretti derivanti dall'uso o dalla divulgazione delle informazioni contenute in questo video. Buon pomeriggio, ben trovati con il nostro appuntamento del lunedì su MQL Suite Television, dedicato all'approfondimento dai mercati finanziari, con il nostro analista, ospite tra qualche minuto. Vi presenteremo direttamente dall'Accademia di Fabio Larosa, il nostro ospite. Ma prima ci sono delle annotazioni importanti, ovvero una giornata importante, quella di oggi, molto volatile. Una giornata interessante, giornata da ricordare anche per i nuovi massimi storici del Nasdaq. Una bella ripresa del Gold. In questo momento sta performando un più 1,39%. Ma ecco, parleremo di questo ed altro ancora all'interno del nostro appuntamento con il nostro ospite che vado subito ad introdurre e a salutare. Diamo il benvenuto al caro Massimo Mondo. Ciao Massimo. Ciao Michele, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Massimo, ben trovato. Insomma, era da tanto che avevi promesso di venirci a trovare. Finalmente eccoci qui insieme per condividere con tutti i nostri amici le tue analisi. Allora Massimo, prima di partire, dicevo, arrivi direttamente dall'Accademia MQL Suite Academy, un analista oramai consolidato, hai partecipato a diverse trasmissioni, insomma sei un matematico, sei anche l'ideatore del metodo per money management Masaniello, allora un analista a tutto tondo e quest'oggi condivideremo qui all'interno della nostra programmazione con tutti i nostri amici che ci stanno seguendo. E allora Massimo, la solita classica domanda di rito, da quanto tempo insomma ti occupi di trading? Allora, il trading inteso, il trading finanziario dal 2018, in realtà in reale dal 2018, in precedenza avevo sviluppato delle operatività demo, un po' come tutti, in realtà però come trading anche in ambito sportivo, perché sai che provengo dall'ambito sportivo, quindi dal betting, mi occupo di trading anche da più anni, da molti più anni. Bene, insomma da quanto tempo ecco frequenti i corsi di Fabio La Rosa? Con Fabio ci siamo trovati a marzo 2018 ed è stato credo subito diciamo un match perfetto, perché a seguito proprio di un suo webinar che stavo in quel periodo guardando sulla pre-section, mi sono innamorato delle tecniche e quindi è stato diciamo, come si dice, un colpo di fulmine immediato. Ecco Massimo, il fatto di essere un matematico, so anche che sei un analista algoritmico, ti aiuta molto nel trading? Assolutamente sì, Fabio questo lo sa, tante logiche che lui stesso presenta, io tipicamente le vado poi a backtestare, vado a fare delle analisi statistiche per avere delle conferme o soprattutto magari anche dei programmi operativi che mi permettano magari di massimizzare poi l'operatività stessa. Bene, allora Massimo, mettiamo insomma in atto quelli che sono i tuoi studi, cerchiamo di condividerli con tutti i nostri amici che stanno seguendo la diretta quest'oggi e allora cominciamo un po' con le nostre analisi, partirei chiaramente dal Forex. Ecco, da dove vuoi partire Max? Guarda Michele, io più o meno ho fatto una carrellata così, ho creato una watch list prevalentemente su e-measure, qualche commodity principale, VTI, Gold, dove tu stesso hai detto in apertura e poi magari con gli indici se vogliamo vedere qualcosa. Lo vedremo ecco nella seconda parte del programma, ma prima ti dicevo appunto partiamo dal Forex, ecco magari partiamo dal cambio principe del Forex Euro-Dollaro se ti va. Sì, se vuoi partiamo direttamente con uno dei, diciamo, delle mesi euro più liquide in ambito mondiale, pare che sia quella che attrae la maggior parte degli scambi. E che dire degli euro-dollaro? C'è stato un cambio, secondo me, abbastanza importante nel secondo semestre rispetto al primo semestre, perché come sappiamo negli anni scorsi, questo cross, questa valuta, aveva una tendenza in discesa, che l'ha portata addirittura durante la pandemia a perdere il 5% quest'anno. Ma da aprile e poi successivamente da luglio, c'è stato un rally che l'ha spinto assolutamente a recuperare l'open annuale e a portarlo in territorio positivo. Attualmente addirittura siamo oltre il 7.5% annuale, con una performance di circa l'8% e che dire, la tendenza è chiaramente a rialzo, sembrerebbe assolutamente, diciamo, un cambio di lotta rispetto agli anni precedenti. La debolezza di dollaro più che altro che sta a vettare questo rally dell'euro. Certo, quindi insomma, prevedi comunque una continuazione longa per l'euro, nel lungo periodo? Sì, in questo momento assolutamente come supporto darei il livello appunto di 7.5% annuale, che è il livello di 1.20.50, che potrebbe essere ovviamente backtestato, testato, pullbackato, come dir si voglia. Possibile continuazione quindi long, con target molto ambizioso per quest'anno, probabilmente magari anche valido per l'anno successivo, di 1.23.30. Bene, notavo insomma il template molto interessante che stai utilizzando, vediamo anche l'orologio, hai praticamente messo in primo piano l'orologio che ti aiuta a fare trading, Max. Sì, l'orologio mi ha aiutato a fare trading soprattutto in alcuni momenti di alta volatilità e soprattutto in apertura e chiusura di candele orarie, per cui lo tengo sempre lì in sovraimpressione. D'altronde un tocco di personalità, dovevo mettercela anche io nella suite. Infatti, notavo insomma che hai personalizzato i template di MQL suite. Bene, dopo euro-dollaro, quindi apprezziamo questa tua previsione long per il lungo periodo. Continuiamo ancora con le major. Vedevo già da questa mattina, chiaramente dalle prime battute, già da quando abbiamo fatto la prima diretta di quest'oggi alle 9.45, il nostro morning report, una sterlina molto debole che insomma si è fatta sentire questa debolezza della sterlina sul paniere. Max, vogliamo vederla insieme? Sì, allora sulla sterlina in realtà oggi c'è stata un'apertura in cap down che l'ha portato giù decisamente, ma in realtà restiamo ancora in ambito positivo, perché dopo i minimi durante la pandemia del meno 12.5%, che tra l'altro sono dei minimi importanti per questo cambio, cioè la sterlina contro dollaro non aveva mai raggiunto i livelli così bassi negli ultimi dieci anni, la sterlina ha recuperato, ma sembrerebbe aver fatto un pullback proprio sull'open annuale, che vediamo in area 1.32.56, e si è riportato sopra in territorio positivo, come dicevo. Ovviamente c'è stato un falso breakout nella giornata di venerdì, come vedete, del massimo del 2019, per cui attualmente siamo in una zona un po' di incertezza. Diciamo che questi due livelli da tenere presente, quindi ove mai si portasse sotto possibile continuazione short, sotto l'open annuale intendo, ove mai dovesse ritornare a bussare sopra area 1.35.15, quindi c'è assolutamente possibile target in continuazione long. Bene, quindi siamo su dei prezzi interessanti, Massimo. Sì, siamo in una zona decisamente importante, perché questa qui è un'area che secondo me in questo mese dovranno decidere, soprattutto sappiamo che sia prima la BCE, ma poi successivamente il 16 con la Fed, e ancora prima il 14 con l'ufficializzazione del congresso riguardo alle elezioni americane, che tanto hanno travolto il dollaro ultimamente, per cui la debolezza di dollaro vedremo se sarà confermata o se magari ci sarà una ripresa della forza del dollaro. Ecco, tu nel tuo modo di tradare, Massimo, tieni conto anche delle notizie macroeconomiche per quello che succede insomma sui mercati, o comunque tieni conto solo dei prezzi? Allora Michele, io credo che nel trading tutto fa brodo, come si dice in altri termini, cioè fondamentalmente le notizie macro aiutano ad avere soprattutto un'operatività di lungo periodo, che è un po' la bussola che ci deve guidare, soprattutto per il lungo periodo, per la ricerca diciamo dell'operatività di medio-lungo termine. È ovvio che poi ci possono essere delle occasioni anche di breve, per cui non è escluso che si possa andare anche con un modello operativo contrarian, e io spesso trado anche contrarian, per cui ci sono in base agli orizzonti temporali diversi approcci che ci possono avere. Bene, continuando ancora con le nostre analisi, continuiamo ancora con le major, cos'altro ci fai vedere Massimo? Non lo so, se sei d'accordo parlerei del CAD che è relazionato al petrolio, che è appunto, ha espresso comunque anche in questo anno, un rally diciamo decisamente importante, è andato praticamente a fare una performance del più 12.5% durante la pandemia, praticamente solliticando quelli che sono i massimi del 2016, che però non sono stati rotti, per cui ha tenuto questa resistenza diciamo in area 1.46.9. Attualmente si è riportato sotto la parità, come vediamo già nel rally di novembre, praticamente c'è stato un superamento in territorio negativo, quindi è arrivato al di sotto dello 0%, e in questo momento batte meno 1.5% sull'anno. Che dire, finché si manterrà a breakout short, ovviamente la tendenza è short. Il primo target possibile, target 1.26.63, ove mai dovesse fare un break-in, quindi riportarsi in territorio pressoché sulla parità, resteremo alla finestra. In questo momento direi, così come un po' con gli altri, debolezza di dollaro, per cui direi continuazione short. Bene, continuiamo ancora con gli altri major, con il dollaro neozelandese. Allora, il neozelandese anche esso ha avuto un grosso problema appunto durante la pandemia, per cui contro il dollaro che si era affascato appunto un po' come valuta rifugio prevalentemente, in quel periodo era visto non solo come valuta di investimento, ma come valuta rifugio, perché nell'incertezza ovviamente non solo lo yen ci ha guadagnato, ma anche il dollaro. Dopodiché c'è stato un rally che l'ha portato in territorio positivo, in questo momento il cross è al più 5% annuale, ed è a breakout annuale, per cui finché ci troviamo sopra i massimi dell'anno precedente, tendenza long, attualmente siamo in una zona un po' di indecisione, intorno al più 5%, per cui è da tensionare una chiusura magari daily su questo livello che è 0,70 e 0,65. Ecco Massimo, pensi sia opportuno comprare a questi prezzi o magari ti aspetti un pullback, magari al primo ritracciamento si riprova a comprare? Allora è ovvio che bisogna intercettare un po' il movimento, come dicevo, di lungo, e fin tanto che il dollaro dimostra debolezza rispetto a quasi tutti i cambi, perché fondamentalmente è più debolezza di dollaro che non forza di altro, per cui fondamentalmente, e soprattutto negli dieci anni, ci sono stati minimi importanti, quindi è fisiologico, è naturale che ci sia un po' un recupero, e può essere magari anche iniziato a luglio e poi successivamente confermato appunto durante il mese di novembre, e adesso che c'è l'appuntamento della Fed, potrebbe essere confermata magari un'intenzione di indebolire il dollaro per rafforzare un po' l'economia americana, che deve necessariamente ripartire, dal post-pandemia ovviamente. Bene, concludiamo le analisi sul Forex, andando a vedere anche il dollaro australiano. Il dollaro australiano, anch'esso abbastanza correlato, sono le cosiddette commodity currency, che sono ovviamente correlate in prevalenza con la Cina, perché è il principale importatore di materie prime a livello mondiale, e sia NZD che AUD sono commodity currency, quindi sono solitamente correlate alle materie prime. Che dire, lo stesso discorso, dopo il meno 20%, con dei minimi decennali molto importanti, si è portato in territorio positivo, attualmente siamo a più 6.23%, e quindi possibile continuazione long, primo target prossimo 0.7542, ovviamente si dovesse portare sotto la parità, cioè sotto il 5%, prenderemo ulteriori decisioni con possibili ritracciamenti short. Bene, allora Max, per il momento ci fermiamo per quanto riguarda il Forex, ora diamo linea alla regia e poi ripartiamo chiaramente con gli indici e le commodity. Restate con noi. A dopo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.